Ciao a tutti! Ciao! Giocajue! Ve lo ricordate il giocajue? No! Come no? Sono scomodo! No, ti giuro, ma cos'è? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Ragazzi c'è qualcuno sotto! Ma io non ho armi! E uccidetelo! Ah! Ho un altro! Allora! Lei per favore muoia! Grazie! Ho un altro! Tu! Togli la cera! Ah! Mi spara! Mi spara! C'è il cugino! Ma f***a che schifo sta arma! L'ho distrutto! Granita! Che male la granita! Dov'è? Iiii! Ahahahah! L'ho uccidito! Uh, questa è brutta! La devo proprio cancellare male! Ma io mi chiedo, l'intelligenza di alcuni, no? L'intelligenza tattica? Vedete, in 3. Di 3 ne è morto 1. E ci sta! Allora poi arriva il secondo! E muore pure quello! E il terzo che cos'è che fa? Invece di farsi i c***i suoi e scappare per salvarsi il culo e poi magari tornare più tardi a recuperarli, no! Va addosso anche lui ai 3 avversari che hanno ucciso i loro amici! Ma voi siete scemi! Beh, ma è inutile che te la prendi con questa intelligenza artificiale, Wikus! Sì no, sono palesemente bot perché non è possibile! Quel tipo lì è girato! Vabbè, faccio esplodere tutto! Buone dubbio! Questa è popocrisia pura ma non me ne frega assolutamente nulla! Che esplodano! Stiamo sparando! Uno è praticamente morto! Uno è terra! E l'altro è l'altro! Lul? Ma... Ma è fortissima questa arma! Ma quindi sono morti tutti? Eh sì! Direi! Eh no, mi sono... No, le manca uno! Mi seri 9! Oddio, ma ho bisogno a cover! Eh... Potevamo prendere una macchina, effettivamente non siamo dei cogli... No! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Ce l'ho! Se volete venite! Corri! Bello! Ti piace come guidi? Vieni, wikud! Vai, corri! Ma che è questa musica del merda? Maggio! Claxon! Campana! Ok! Io arrivo e lo giuro! Ma no, vai tranquillo, tanto abbiamo tutto il giorno! Lo giuro! No, mi è morto il cane! Aia! Non arriva! Spariamo? Morto! P***o! Ho una mira di m***a oggi, madonna santa! Ma qua! Niente! Vai andiamo, wikus! Aia! Aia, 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 aia! Ma questo che c***o face... Camperone di m***o! Scappo! 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 Ah! Morte! Distruzione! Riuscite a venire verso lì qua! Certo! Ma di mattina sì! Mamma mia! ah niente fate sto schifo eh allora la scena dove lui si mette la maschera è esattamente come il film lui la tira fuori dal buco del culo non sai da dove e poi se la mette e se la toglie facendola sparire ma lei non c'è mai stata bravi bravi Fortnite brava Epic che per una volta ha saputo rendere giustizia a un film di merda in modo schifoso bravi questo gioco lo odi la risposta è che non arriverà mai non vedo le persone dove sono? ce n'è un altro dai oh ma che c***o fa che non spara ma vaffanculo ho finito i colpi e non l'avevo visto ma vaffanculo 40 minuti a sparare a vuoto perché non c'erano i colpi guarda Wicos cosa posso fare lascermi stare oh 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 chi? no adesso adesso ti lasceremo stare adesso ti lasceremo stare va bene perché mi perché non mi lasciate stare mi viene pure a fottere le kill hai ragione da 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 adesso che mai avrei fatto ma non importa comunque non vado per i c***i miei no basta me ne vado per i c***i miei no arancia dai che due palle personissima che succede oh sì sì che stai vedendo c'è la pompa beh non volevo la pistola però dai quanto sei più intuitivo gioco del c***o guida bene lanciati arancia aspetta arancia perché vai lì ma provi ah vabbè ma io vado ma il rampino non mi ha più niente a lui di correre con me certo poi meglio tanto mi lancerebbe in giro asuka quindi sei salito e già inizia a guidare male e perché non sei capace a fare nulla wikus c'è un tipo wikus ma che c***o questo è ah no ma che c***o vai e niente basta non torna a fare spider man abbandoniamo la nave ah sono due oh ragazzi ma io non so più sparare davvero ma veramente non riesco a sparare ma che c***o orco due no sono diventati si sono moltiplicati sono tra l'altro sono solo due ma che c***o scusami due colpi due colpi mi ha tirato questo ma due colpi ragazzi io mi sono c***o il c***o di questo gioco di m***a noi ci vediamo la prossima volta sempre su questo schifo forse ciao 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 ciao